Bentornati al Dirt Podcast, offertovi da Don... Nolan, l'altro giorno stavamo parlando di un giovane in particolare. Aveva un nome strano, ricordi? Eh, credo... Boss? Sì, sì, sì. Non è bizzarro. Onestamente sono un po' geloso. Via, James è un bel nome. Grazie, grazie tante, amico. Mi fai commuovere. Ma sapevi che James è un nome maschile molto popolare nei paesi anglofoni? Eh, esso deriva dall'ebraico, aramaico antico e significa... Stai leggendo da internet? Ah, io? No, non lo farei mai. Nolan, riesco a vedere il tuo telefono, metti il via. No, non lo farei mai. 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 Grazie a tutti. 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 Esatto. Mordente. Grazie a tutti. 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 a tutti.